Analizzando il programma Gemini 9, si vede che la Nasona prosegue con le sue menzogne ingannando il pubblico ignaro. Trovate anche il video originale al minuto 27 e il link nella descrizione. Secondo la storia ufficiale, come narrato da uno degli astronauti della Gemini 9, il primo giugno 1966, la navicella spaziale orbitava la Terra ad una velocità di 28.850 km orari per l'appuntamento del cosiddetto Augmented Target per l'adattatore di aggancio o ATDE. Potete leggere l'intero argomento nel documento NASA di cui trovate sempre il link nella descrizione. Questo è il video originale e vi ho messo i sottotitoli. Qui stiamo spazionando fuori, l'ATDA va all'interno dell'Oceano che abbiamo passato il Sahara, stiamo arrivando a più di 1000 metri. Non c'è una questione di che stai passando a 18.000 km per l'ora, e ti ho quasi la sensazione che, come ho detto prima, non c'è una questione di che stai passando a 18.000 km per l'ora. Come potete vedere, mentre la presunta Gemini 9 stava sorvolando la Terra a 28.850 km orari, improvvisamente si è fermata in un secondo. E una volta agganciato l'ATDE, ha ripreso la sua velocità in pochi secondi. Approssimativamente si tratta di un cambio di velocità di 57.000 km orari in soli 3 secondi. Ovviamente solo in una decelerazione o accelerazione del genere sarebbe morto chiunque si trovasse a bordo. Non c'è alcun cambio di telecamera, né alcun cambio di angolazione, quindi nessuna scusa. Questo video dello spazio è un fake, come tutte le info che propinano dalla fine del 2019. Chi imbambola il mondo sono organizzazioni criminali, quali religioni, partiti, scienza, storia, medicina, eccetera, eccetera, eccetera. Smettete di seguire gli altri, di far imbazzare le fake news sui social, ritaricando incessantemente le notizie dei criminali. Non fate altro che alimentarli. La verità è dentro di voi.